Assessore Risso, il Comune di Imperi e l'amministrazione comunale ha sottoscritto una convenzione con questa associazione dei bikers. Ecco, non una convenzione per parlare di moto e sfilate di motociclette per la città, ma perché questi bikers hanno a cuore soprattutto i bambini, giusto? Certo, assolutamente. Il Comune di Imperi ha siglato, siglerà oggi un protocollo di intesa con i BACA, cioè Bikers Against Child Abuse. Sono dei motociclisti che nascono come associazione con finalità di sostegno e di contrasto agli abusi e alla violenza sui minori. Come Assessorate ai Servizi Sociali abbiamo ritenuto opportuno collaborare con loro, come si collabora con tante altre associazioni, proprio per creare una rete di sostegno e di contrasto alle violenze fisiche e psicologiche sui minori. A base di questa convenzione che cosa ci sarà e come sarà questa interazione? Intanto sulla base di casi che verranno segnalati si inizierà una relazione, un rapporto con questi bikers, quindi attraverso e naturalmente con il coordinamento dei Servizi Sociali del Comune di Imperia si individueranno delle strategie per intervenire a sostegno di minori e di casi anche di famiglie che avviano avuto dei problemi di violenza su minori o anche violenza di tipo psicologico.